Un bilancio con utili da riutilizzare per manutenzioni e interventi di miglioramento, il cambio del sistema di calcolo dei canoni che comporterà un aumento dei ricavi del 18% nel 2019, un piano trenale di investimenti da 7,2 milioni di euro e lo stato di salute dell'Ater di Belluno. Durante la presentazione delle linee di intervento per il futuro, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Lega in Parlamento e in Regione, si è parlato soprattutto di un rilancio dell'ente che parte da una situazione finanziariamente solida. Anche grazie a un tasso di morosità limitato al 7% e a un costo del personale ridotto rispetto alle altre province, il bilancio 2018 dovrebbe chiudersi con un avanzo di 250.000 euro. Il prossimo anno verranno ritoccati i canoni di affitto che saranno parametrati sull'Ise. L'importo medio ad oggi è di 140 euro, il ritocco sarà del 18%. Per quanto riguarda gli investimenti, tra il 2019 e 2021 verranno ricavati nuovi alloggi grazie a un pieno da 7,2 milioni, finanziato per un sesto dalla regione. A Belluno sei nuovi appartamenti nei dintorni di Piazza Duomo e quattro a Cavarzano, più la realizzazione di un nuovo edificio da 12 unità a Visome. A Feltre nove nuove unità al Boscariz, mentre a Quantin di Ponte nelle Alpi la demolizione dell'ex scuola elementare consentirà di realizzare cinque nuovi alloggi. I requisiti per l'accesso alle case Ater si faranno più stringenti, va aiutato chi ha più bisogno, puntualizza il presidente Ileni Arento. Di qui illustra il vice Francesco Lagrua la necessità di basarsi maggiormente sull'Ise. Una decisione che potrebbe costringere 200 famiglie attualmente residenti negli alloggi a consegnare le chiavi per lasciare spazio a chi ha un reddito più basso. Prima della fine dell'anno l'Ater di Belluno incontrerà i sindaci per illustrare nel dettaglio le modifiche.